Ormai dovremmo tutti averlo capito, come si muove l'establishment, l'establishment naturalmente che governa di fatto il mondo occidentale. Ebbene la strategia usata non cambia mai ed era stata anche raccontata con sincerità dall'ex presidente del Consiglio europeo, il belga Van Rampuy. La classe dirigente cosa fa? Si pone un obiettivo che si sa non essere molto popolare, quindi si fa trapelare una notizia piuttosto forte, così per saggiare la risposta dell'opinione pubblica. Qualora la reazione fosse estremamente negativa si sventisce la notizia. Certo, non è che si cambia l'obiettivo, si cambia la strategia. L'obiettivo resta sempre quello, semplicemente viene riproposto ma in maniera più graduale, ossia si dà il tempo alle persone di adattarsi con gradualità ad un cambiamento che poco alla volta sarà metabolizzato fino ad essere accettato completamente. Tutto ciò lo possiamo riscontrare anche nell'imporre ad esempio quella che potremmo certamente definire una subcultura che soltanto alcuni anni fa noi non avremmo mai accettato. Sia chiaro che le menti più illuminate del secolo scorso ci avevano avvisato per tempo, avendo descritto anche nei dettagli quel che sarebbe accaduto soprattutto riguardo ai cambiamenti sociali. Al punto che fino a poco tempo fa potevamo, dico ridere, ma insomma ritenere fantascienza un termine come transumanesimo, oggi perlomeno non fa più ridere. Ma non voglio spingermi troppo in là, voglio fermarmi e cercare di capire quale possa essere il limite di questa escalation. Un escalation tuttora in atto. Ed ecco allora, mi riferisco a Marco Travaglio. La mia attenzione infatti veniva tratta dal titolo di un articolo, sentite, Travaglio, aperte le virgolette, Macron sull'invio di truppe in questa follia è il più razionale perché è anche il meno ipocrita. Queste parole mi sembravano quasi più una giustificazione, parevano addirittura una approvazione dell'annunciato invio di truppe francesi in Ucraina. Ho pensato così che il direttore del Fatto Quotidiano fosse totalmente andato fuori di senno e mi sono messo a leggere l'articolo. Scoprivo subito che si trattava del resoconto di un intervento che Travaglio aveva avuto in una trasmissione televisiva. Ma attenzione, sentite nella realtà cosa egli ha detto. Noi siamo partiti dalle armi difensive, poi le armi leggere, poi le armi pesanti, poi i tank leggeri, poi i carri armati pesanti, poi i missili a medio raggio, a breve raggio e poi addirittura a lungo raggio. Adesso i cacciabombardieri e poi che cosa rimane? Beh, rimangono i soldati e poi le atomiche. E dette così non sono parole irresponsabili quelle pronunciate da Travaglio, ma sono una lucida e purtroppo anche terribile constatazione di ciò che è e ciò che comporta un'escalation portata alle estreme conseguenze. È chiaro che anche la nostra generazione, la mia generazione, non più giovane, ha visto le conseguenze di esplosioni atomiche solo su qualche isoletta sperduta in un atollo del Pacifico. La mia generazione e tutte quelle a seguire naturalmente, hanno sempre ritenuto che l'uomo, proprio sapendo le terribili conseguenze dell'utilizzo di armamenti atomici, non si sarebbe mai spinto a tanto, si sarebbe sempre fermato prima di arrivare a quel punto senza ritorno. Ma non solo. Non abbiamo nemmeno mai pensato che si potesse arrivare a trattare sui media l'argomento guerra nucleare. Doveva semplicemente essere un argomento off-limits che non aveva senso neppure poterlo accennare. Oggi rimango esterefatto, non solo perché se ne sente parlare sui mezzi di comunicazione di massa, ma soprattutto perché se ne parla come se l'argomento fosse lecito ed abituale. E le persone non reagiscono. Certo, da un certo lato posso capire il rifiuto a livello inconscio. È un po' come per quelle malattie terribili che non lasciano scampo. L'argomento è appunto di una tale gravità che si preferisce non venga neppure trattato. Ma certamente questo comportamento, questa assoluta mancanza di una naturale reazione da parte di quella che un tempo veniva chiamata la società civile, è il risultato di una narcosi delle menti, una narcosi già sperimentata e purtroppo con successo sull'intera popolazione mondiale negli anni scorsi. È come se fosse, che ne so, soppressa, annullata la volontà del popolo. Non penso infatti esista su questa terra una sola persona mentalmente sana che non sia contraria ad un conflitto nucleare. Ma nonostante ciò, pur sentendone parlare sui mezzi di comunicazione di massa, si continua la propria vita, così, eludendo l'argomento. Attenzione poi, cari ascoltatori, perché non devono assolutamente tranquillizzarci neppure le dichiarazioni di apparente totale disaccordo nei confronti delle affermazioni di Macron da parte delle nostre massime cariche istituzionali. La riprovazione da parte del Colle e di Palazzo Chigi. Quelle riprovazioni non hanno alcun valore. Ci metteranno cinque minuti a cambiare opinione, perché? Perché quel che conta non sono le nostre istituzioni, è l'Unione Europea. E la bozza del Consiglio Europeo è raggelante, letteralmente raggelante, visto che chiama al riarmo l'intero continente e nel programma vengono coinvolti persino i civili. Cioè, naturalmente viene specificato che tutto ciò avverrebbe in caso di attacco militare, ma sappiamo che l'attacco militare è molto più probabile che possa partire proprio da noi. Poi, una volta partito, le conseguenze sarebbero inimmaginabili. Ma d'altronde, analizzate per un attimo le parole di Macron. Che significato ha l'affermazione la Russia non può vincere la guerra? Quell'affermazione non può essere letta in modi diversi. Significa una cosa soltanto. Semplicemente che non solo la Francia, ma l'Europa e l'Occidente intero deve intervenire per impedire che la Russia vinca la guerra. Evento oltretutto che si è già verificato. Quindi, cari ascoltatori, lascio a voi ogni altra considerazione.